Trovarsi là sotto e alzare gli occhi al cielo e vedere tutte quelle persone che sono venuti a vedere te, cioè il calcio femminile, non il calcio maschile, è qualcosa di incredibile. Quindi è una sensazione bellissima, un'emozione unica e penso che le ragazze se la porteranno avanti per tutta la vita, perché era veramente la premier, quindi è bello. Si porteranno anche a casa il fatto di essere ora più quattro dalla seconda, insomma sfida Scudetto in tasca, buona prima posizione. Beh, questa ora doppia la gioia già di essere qua, perché ovviamente tornare a casa con questi tre punti è qualcosa di incredibile, che veramente va a coronare una giornata già indimenticabile. Siete abbracciate alla fine del grande festa, quali sono state le parole, le frasi, cosa vi siete detti? Ma in quei momenti lì non c'è niente da dire, basta guardarsi negli occhi e vedere l'emozione nei volti delle mie ragazze, lacrime di gioia, è qualcosa di incredibile, non servono parole. Guardare in su quando sei entrata, cosa hai pensato? Ma per cambiarla in realtà, ripeto, ho più che altro guardato in campo, perché quando c'è così tanta gente il punto è guardare invece i tuoi avversari e rimanere più concentrato sul rettangolo di gioco. Abbiamo avuto tempo prima in tutte queste due settimane, da quando c'è stata la notizia, quando poi c'è stata l'escalation di vendita di biglietti, eccetera, abbiamo avuto tempo prima per pensarci, quindi lì mi sono solo goduta al momento e concentrata poi su quello che devo fare. E poi tra l'altro, tre punti fondamentali, si avvicina allo Scudetto, mancano ancora tre partite, quindi tutto può succedere, però possiamo essere ottimisti. Beh, è chiaro che aver creato adesso, avere questo stacco con la Fiorentina è una cosa importante, ci dà diciamo più serenità, dopodiché abbiamo una partita che è stata anticipata mercoledì, che come immaginerete dopo due settimane così, con una partita del genere, è il dispendio fisico e soprattutto mentale, una partita in trasferta a due giorni non è proprio semplice, quindi adesso ci godiamo questa serata, ci ributtiamo su quella, sono tre punti importanti per lo Scudetto, bisogna fare ancora tre partite. Una domanda, quale sarà l'istantanea che ti porterai a casa di questa giornata? Mi porterò la gioia al gol di Sofi, mi porterò la cornice del pubblico dal primo minuto del riscaldamento all'ultimo minuto in cui abbiamo giocato e anche dopo, è l'emozione delle mie compagne. Big party here today for you. Yes, it was amazing, I had goosebumps so many times during the game, yeah, all the people they really helped us through the game, supported us all the way, so I will never forget this day. Important match and you won. Yeah, we did, yeah, I don't think we played our best game, but we did all that we could, yeah, we really tried our best and yeah, we got the three points. Credo che la Juve abbia fatto la gara che ordinariamente fa, una difesa granitica che concede poco, una buona qualità dei singoli, con grande capacità di attaccare lo spazio profondo, che abbiamo cercato di togliere il più possibile. L'effetto stadium ha un po' messo pressione alle sue giocatrici, insomma è una cosa che nessuno era abituato, quindi avrà avuto un qualche effetto. È proprio qui che bisogna fare i complimenti alle mie ragazze, perché giocare in uno stadio dove forse non si è ancora neanche mai entrato a vedere una partita, perché può essere, perché comunque è un impianto nuovo. Davanti a 40.000 tifosi, avversari, con una pressione tecnica pazzesca, anche perché dai un solo risultato per poter fare bene, e giocare una gara con tecnica, voglia, personalità e tattica non è scontato. Davanti a un palcoscenico del genere, sfaldarsi dopo poco poteva anche accadere, ma alle mie ragazze non è successo perché hanno dimostrato di essere delle ragazze di grandissimo livello. Grazie.